Prova il cross, tocco preciso, ecco il tiro, e supera il portiere, in sacca, un gol molto importante! E' arrivata finalmente la giocata che spezza l'equilibrio. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo, cosa ne pensi? Maresca sapeva già dove sarebbe arrivata la palla, questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi.